Eeeh Super Tunnel Ferma aspetta tutto prima che inizi il video Se siete di Brescia o di città limitrofe Ogni mercoledì e ogni giovedì di settembre-ottobre Saremo al centro sportivo Clemazzurri Per insegnare delle lezioni in tecnica individuale calcio Vi lasciamo il numero qui sotto Chiamate per qualunque tipo di informazione Noi saremo lì disponibili per allenarci Una volta a settimana per due mesi Devono fare presto perché chiudiamo le iscrizioni C'è il numero chiuso perché noi alleniamo 1 a 6 massimo Ah sono chiuse? Ah io vado Bella a tutti ragazzi e bentornati su Footwork Italia Oggi siamo alla tappa del Footwork Star Camp di Firenze Per la seconda edizione del 2020 Del King del Tunnel L'abbiamo già fatto a Brescia Spero che voi l'abbiate visto ma se non l'hanno visto Dovete vederlo per forza Abbiamo come al solito i nostri due premi La coppa di chi riesce a fare più tunnel E l'altra è per il vincitore finale Commentate qua sotto il giocatore che avete preferito In tutto il torneo Non dimenticate di supportare questo format di tornei di uno contro uno Con un milione di like Perché se no vediamo tanti like Vedremo anche tanti tunnel perché un like un tunnel In tutte le tappe faremo questo torneo del King of Tunnel E i quattro vincitori delle quattro tappe Verranno in giro con noi in Italia A sfidare i passanti Presso la coppa dalla me che io la porto sul tavolo La volevo tenere io Iniziamo con le qualifiche ragazzi Let's go 3, 4, 1, 1, 1 Iniziamo con le qualifiche ragazzi Prima di tutti Alla fine Ragazzi purtroppo qui a Firenze sta arrivando un acquazzone potentissimo Siamo stati forzati a spostarci all'interno della struttura per proseguire il king Quindi andiamo in altri tunnel Oggi qua raga abbiamo superato la fase di qualificazione abbiamo visto dei tunnel veramente interessanti Finalmente abbiamo trovato gli otto che andranno a partecipare alla finalissima del king of tunnel Fortunatamente anche il tempo è migliorato è tornato il sole sono tornate delle skills potentissime Prima di vedere le fassi finali commentate qui sotto chi secondo voi sarà il vincitore Il prescelto, il predestinato 3, 2, 1, via! Sì, inizia! Tre viti, tre vizie! Ohhhh! Doppio parentesi! Ora vai, bene! 3, 2, 1, si inizia! Alla finita la Rihanna! Che trova a chiuderla finissima! Prova! È il tunnel! Spiegato! D'artista Arcelli! 3, 2, 1, si inizia! E inizia! Tommy subito in attacco! Ma David, gestisce il ballone in difesa! Mi torno in possesso! Prova subito in tunnel! Attenzione ragazzi! Perché è un tunnel etnici di Alec! Interimperi di... E inizia! E inizia! E inizia! E inizia! E inizia! 4, 3, 2, 1 Lorenzo sta in difesa Fino all'ultimo Direttamente 1, si inizia Lascia prendersi tutto il giorno Va, studia l'adversario 3, 2, 1 Inizio Così 3, 2, 1 Via Inizia Viglia Rivolto Anche Raul Stai aiutando in cora Studio Arrivato su 1, 0 Concentrazione delle stelle Questi due Comunicati Sul proprio tunnel Le ciro così E guarda Il terzo posto Raul Bene ragazzi Sono passate le fasi di qualifica Top 8, top 4, semifinale Abbiamo i due finalisti Vasco contro Lorenzo Super finale ragazzi Fate sempre nei commenti Cosa mi pensate di questa finale Ma soprattutto ragazzi Fateci divertire Quanti per la super finale Ritro Quanti per la super finale Per questo Per questo Per questo Per questo E' un'altra Per questo Quanti per la super finale E' un'altra Per questo E' un'altra Per questo E' un'altra Vincere il King of Tunnel E il Master of Tunnel Mr. Vasco E' Vorky Scorpa Facciata di coppe Oggi del Vasco Ragazzi si è conclusa Anche la tappa Del King del Tunnel Di Firenze E Vasco Si è classificato Primo finalmente ragazzi Riuscito a portarsi a casa Sia la coppa Per l'ultimo Rimasto in piedi Sia la coppa Per il maggior numero Di tunnel Hai spaccato Vascone oggi Noi ci vediamo Con tutti gli altri Campioni del Tunnel In giro Pestana con i passanti Hai qualcosa da dire I prossimi partecipanti Di King of Tunnel Che verranno Qualche consiglio Qualcosa Pronto a svidarvi Mamma mia E' pronto a svidarvi ragazzi Noi ci vediamo alla prossima Lasciate un like per Vasco Bella Bella Ciao